Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per giovedì 6 luglio. Fine definitiva della fase piovosa sul nord Italia. Passerà qualche settimana prima che possiamo vedere un'altra piovosa perturbazione. Nel frattempo, giovedì al sud, si allunga l'anticiclone nordafricano che poi entro il 10 luglio abbraccerà tutta l'Italia dando avvio alla più intensa ondata di caldo dall'inizio dell'estate. Ma vediamo i fenomeni previsti per giovedì. Una perturbazione atlantica in rapido passaggio porterà rovesci temporali su tutto il nord Italia. Rovesci temporali che al mattino saranno forti su Padovano, Ferrarese e Ravennate e al pomeriggio saranno forti sulle Alpi. Massimi intorno a 25-28 gradi al nord, 27-30 gradi al centro regioni tirreniche, 28-31 su regioni meridionali, su Puglia, Calabria e Isole Maggiore, ponte di 35 nell'interno dell'Isole Maggiore e nella Puglia. Vi ricordo di scaricare dall'on page del nostro sito la nostra app rinnovata da una settimana completamente piacevole da vedere perché è molto facile da usare. Grazie. Grazie.